Tutto o quasi, purtroppo, come prima. Nonostante impegne promesse prese al tavolo con le istituzioni, il futuro dell'aerosol di Val Madrera e dei suoi 66 lavoratori è ancora molto incerto. L'azienda specializzata nella produzione di bombolette spray per i settori cosmetico e farmaceutico da tempo è in crisi di liquidità. I lavoratori non ricevono lo stipendio da 5 mesi. Uno spiraglio si era aperto qualche settimana fa a seguito di un incontro in provincia con l'amministratore unico Giovanni Bartoli. In quella sede era stato promesso ai lavoratori il pagamento di parte degli arretrati e, quanto prima, la ripresa della produzione. Alle parole, però, denunciano i sindacati. Non sono ancora seguiti i fatti. La produzione, spiegano i rappresentanti dei lavoratori, non può riprendere a causa della mancata sistemazione di tutte le prescrizioni ricevute da Arpa e Vigili del Fuoco. Tutto questo sempre perché manca liquidità. L'impegno più importante preso da Giovanni Bartoli, al tavolo con le istituzioni, proseguono i sindacati. Non è stato rispettato. L'amministratore si era impegnato a sottoscrivere un aumento di capitale necessario per consentire la ripresa della produzione, ma quei soldi, e stiamo parlando di 500 mila euro, non sono ancora arrivati. Riteniamo, concludono i sindacati, che l'unica strada alternativa al fallimento dell'Aerosol sia quella di consentire di rilevare l'azienda a chi è interessato a portare avanti l'attività e non solo a speculare. Qualora l'atteggiamento della proprietà sia di chiusura rispetto a quest'ipotesi, la risposta dei lavoratori, dichiarano CGL Cisle Will, sarà durissima e nessuna strada possibile, legale e contrattuale, verrà esclusa.